Musica Il match è shop una grossa occasione per tornare a vincere e per avvicinare il gruppo delle prime. A Venezia un super cemento non basta per assicurarsi tre punti. Subito un pericolo per la porta giallorossa ma un Rossi è più bravo dell'altro e il terzo Rossi, quello della panchina, non la prende bene. La difesa salentina applica mare il fuorigioco e permette a Fantini di incunearsi e segnare indisturbato. Palla al centro e ci pensa subito l'inimitabile Cevantona a pareggiare i conti con un diagonale imprendibile. Anche la difesa veneziana non è immune da colpe. La partita è vivace e Cevantona è sempre in prima fila. La botta di Boroncecci non impenserisce troppo Gisele Rossi. Verso la mezz'ora il difensore Veneto Guerra serve involontariamente a Conan un assist perfetto e Livoriano non si fa pregare per sfruttare l'imprevisto regalo. Cevanton continua il suo show personale, prima manda sull'esterno della rete, poi calcia una posizione tagliatissima sulla quale nessuno arriva. Ma allo scadere del tempo un altro errore collettivo della difesa leccese mette in condizioni Fantini di realizzare facilmente il 2-2. Potrebbe ancora fare trece a Vantone ma il suo colpo di testa finisce sul palo. Il secondo tempo è decisamente più scadente sotto il profilo tecnico. Ceva, anche se acciaccato, ci prova a tutte le posizioni ma senza fortuna. E in pieno recupero Lecce rischia la beffa su tiro di Anderson. I sostenitori leccesi sono soddisfatti lo stesso, ma resta il rimpianto per i due punti persi.